La mia figurina del cuore è datata 1991-92 perché è la mia prima SPAL, mi riporta quando avevo 7-8 anni, andavo al matta con mio papà e mio fratello e per dire la verità anche l'anno prima avevo fatto qualche partita, però questa fu davvero una squadra eccezionale, una cavallocata straordinaria con Gb Fabri in panchina e una formazione che tutti a Ferrarra ricordano a memoria, a Torchi, a Lancini-Paramatti con dei giocatori che facevano davvero divertire, Zamuner-Butazzi che arrivò a direttore in doppia cifra in quella stagione, degli attaccanti che facevano innamorare i tifosi come Mertini, Labardi e lo stadio da 20.000, qualcosa di incredibile ancora oggi e stiamo parlando di Serie C1, poi quella squadra fu meritatamente al primo posto, l'anno dopo purtroppo le cose non andarono altrettanto bene ma questa è un'altra storia.